Mi sono accorto che prima di andare oltre e quindi inoltrarci in altre caratteristiche del germanico, delle lingue germaniche e dell'evoluzione dell'europeo al germanico, sarebbe il caso di fare qualche breve precisazione sulla fonetica, giusto per chiarire il tutto, senza assolutamente pretese di esaustività o di completezza. Quindi partiamo dalla definizione di sillaba. La sillaba è un'unità di struttura fonologica, o meglio ancora fonetica, che viene pronunciata con un'unica emissione di voce e che è costituita da un nucleo, che può essere un dittongo, una vocale, un assonante, a cui poi si possono volendo aggiungere delle consonanti o anche una sola consonante. Una vocale, che cos'è una vocale? Beh, la vocale è un suono la cui articolazione prevede un passaggio libero, non ostruito, non bloccato, dell'aria attraverso il canale fonatorio. Ed è sempre sonora, quindi A, E, I, U, O. Io posso andare avanti a prolungare il suono fino a quando ho fiato, perché non incontro alcun blocco all'interno della mia struttura fisica che mi permette di produrre suoni. Possiamo avere anche un dittongo, quindi una unità costituita da due vocali che vengono pronunciate, sempre con unica emissione di voce, e anche ci sono dei casi in cui abbiamo delle sonanti, quindi non si tratta in questo caso di vocali, ma comunque possono costituire il nucleo di sillaba, però questo è un discorso a parte. Quello che quindi distingue una vocale da una consonante è proprio la presenza o meno del blocco, di questa appunto ostruzione, di questa costrizione del canale fonatorio, che nel caso delle consonanti è sempre presente, anche se con modalità diverse. Infatti si va a parlare, per quanto riguarda i consonanti, di una classificazione sulla base del luogo, del modo e del grado di articolazione. Sulla base del modo di articolazione possiamo ad esempio considerare le occlusive. Le occlusive sono quei suoni consonantici in cui l'ostruzione è totale, è completa, c'è un blocco vero e proprio che si interpone tra il passaggio dell'aria e la sua fuoriuscita, in forma quindi poi di suono effettivo. Quindi t, d, k, g. Io non posso pronunciare questo suono all'infinito, neanche fin quanto ho affiato in gola, perché incontra un blocco, un contatto costituito appunto da un contatto stretto e totale di alcuni organi articolatori. E il suono effettivamente esce solo nel momento in cui questo blocco si va a sciogliere in qualche modo. Ecco poi la fricativa invece presenta un contatto di alcuni organi articolatori non totale, non completo. Crea quindi una sorta di fessura attraverso cui passa un suono che all'udito risulta molto simile a quello di una frizione, s, oppure z, sh. Poi abbiamo l'affricata. Le affricate sono delle particolari consonanti che hanno una prima fase occlusiva ma non esplosa e una seconda fase invece di fricativa. Ad esempio t, t, è costituito nella prima fase occlusiva che è t, a cui segue subito una fricativa s, t, s, t, s. Abbiamo poi altri modi di articolazione, ad esempio le nasali, cioè l'aria fuoriesce dalle cavità nasali, m, n. Abbiamo le liquide, ovvero quelli in cui l'ostruzione è minima, il blocco non è particolarmente potente o importante, e distinguiamo tra le liquide e le laterali, cioè quelli in cui il flusso d'aria esce lateralmente rispetto alla lingua, che costituisce in questo senso una sorta di canale centrale, l, oppure le vibranti, che possono essere monovibranti, oppure i vibranti, eccetera, ma le vibranti nascono dalla vibrazione di un particolare organo articolatorio che è in grado di vibrare, ad esempio l'uvula o la lingua stessa, rrr. Bene, questo per quanto riguarda il modo di articolazione. Per quanto riguarda invece il luogo di articolazione, beh, li distinguiamo ad esempio le labiali, le bilabiali, le dentali, poi con tutte le varie sfumature, sulla base proprio della posizione in cui l'ostruzione avviene, che può essere appunto la zona alveolare, post-alveolare, oppure esistono anche, ad esempio, fricative interdentali, come z o z, e poi si passa alle palatali, quindi la zona anteriore del palato, velari, quindi nella zona invece, nella zona posteriore, e così poi le ugulari e le glottidali, eccetera. E il grado di articolazione ci dice, invece, se quella consonante in quel particolare modo di articolazione e con quel particolare punto di articolazione e con quel particolare modo di articolazione è sonora oppure no, ovvero se prevede anche la vibrazione o meno delle corde vocali, quindi in questo senso distingueremo tra le sonore e le sorde. Nel caso poi dell'Indoeuropeo si dovrà parlare anche di sonore aspirate, quindi che presentano prima questo suono di fricativa faringale, essenzialmente, prima della pronuncia vera e propria del fondo in questione. Quindi penso di, nelle linee essenziali, aver detto tutte le cose che ci servono. Forse sarebbe il caso anche di dire che cosa intendiamo per radice, perché spesso si parlerà di radice, quando ad esempio si fa riferimento al fissarsi dell'accento radicale, al fenomeno della risottomia, vi dicevo che l'accento in germanico va a fissarsi sulla radice della parola. Ecco, la radice è quell'elemento della parola che costituisce il suo nucleo fondamentale di rinunciabile. È quella che ci riporta anche al suo significato. Io poi potrò aggiungere delle cose, mettere dei suffissi, dei prefissi, appunto degli elementi altri all'interno della parola, per declinare il sostantivo, per coniugare il verbo, per fare processi di derivazione di vario genere o di composizione di parole, però quel nucleo fondante della parola rimane, ed è quello che veicola il significato irrinunciabile e ultimo della parola stessa. Pensiamo ad am in italiano, da cui io poi traggo amai, amerò, amore, amare, amante, ma anche ad esempio amico, e poi da amico posso fare l'aggettivo amichevole, e poi da lì l'avverbio amichevolmente, aggiungendo sempre cose, elementi nuovi alla base. Questo è un discorso poi complesso, che ho proprio detto in maniera banalissima e superficiale, però il senso è questo. Insomma, la radice ci consente anche di individuare delle, in qualche modo, dei campi semantici, quindi amico, amo, e amerò, eccetera eccetera eccetera. Grazie.